Lo scheletro di Gaspare Pacchierotti, un famoso cantante castrato vissuto tra il XVIII e il XIX secolo, è stato riesumato dai ricercatori del gruppo di medicina umanistica dell'Università di Padova per poter studiare gli effetti che la castrazione ha avuto sul suo corpo. Uno studio innovativo che parte ancora una volta dal nostro Ateneo che spera di far luce su tutte le implicazioni che tale pratica può avere sull'uomo. Si tratta infatti del primo scheletro completo di un cantante castrato mai studiato. Pacchierotti è ritenuto uno dei maggiori cantanti lirici castrati, ancor prima che raggiungesse la pubertà subì un intervento di asportazione delle gonadi e dopo una carriera di successo che lo portò a cantare anche per Napoleone si ritirò a vivere in una villa alle porte di Padova. Dallo studio si sono evidenziati particolari effetti. Per esempio i castrati a causa della ritardata fusione delle ossa lunghe delle gambe sono di solito piuttosto alti. Pacchierotti infatti era a 191 centimetri di altezza spiega il dottore Alberto Zanatta del Dipartimento di Scienze Cardiologiche, Toraci e Vascolari dell'Università di Padova. Altri importanti segni causati dalla variazione ormonale sono la diffusa osteoporosi e problemi ai denti dovuti al forte stress.